Ben trovati, un nuovo video tutorial firmato FabianBrosi.it, questa è la terza ed ultima lezione dell'esercizio che abbiamo iniziato ormai due lezioni fa sull'animazione di un semplice sottopancia. Nella lezione precedente abbiamo animato le nostre forme geometriche e i nostri testi per fare in modo che il nostro sottopancia, in altre parole, compaia sullo schermo e poi alla fine della nostra animazione vada via così come è entrato. In questa lezione faremo la stessa cosa, o meglio sistemeremo un po' l'uscita del sottopancia animando non la posizione ma una maschera di livello molto utile per creare effetti leggermente più complessi. Vi ricordo www.fabioambrosi.it, sito internet dove troverete gli articoli di questi tutorial. C'è anche il corso dedicato a Premiere Pro se avete voglia di imparare a montare con quel bellissimo software. un corso rivolto ai principianti, ovviamente a chi non ha mai lavorato con Premiere. Se siete curiosi fate una capatina e vi invito ad iscrivervi a questo canale YouTube. Mettete la vostra iscrizione, accendete le notifiche perché stiamo iniziando a fare anche i video tutorial live. Quindi per non perderli accendete le notifiche in modo da essere sempre avvisati quando ci sono questi eventi molto particolari. Ma se preferite, se avete voglia, cercatemi su Facebook, c'è una pagina da cliccare su cui mettere un like. La pagina è Fabio Ambrosi. Lì tutte le informazioni verranno date praticamente in tempo reale. Bene, veniamo a noi questo tutorial conclusivo di questo primo esercizio. Per fare questa lezione cancelliamo i sottopancia, o meglio cancelliamo i keyframe creati nella lezione precedente. Perché vogliamo concludere questo sottopancia con un'animazione che non si limiti a far uscire le scritte, una a sinistra e una in basso, ma a farle scomparire con una semplice maschera di livello. Abbiamo già visto che cosa sono le maschere di livello in questo corso, quindi se volete tornate indietro di qualche lezione per capire cosa sono le maschere di livello e come utilizzarle in After Effects e oggi mettiamo in pratica un po' dei concetti espressi qualche lezione fa. Innanzitutto vogliamo far sparire la scritta Editor con anche il suo Box. Quindi io utilizzando, selezionando per esempio il Box Editor, che è questo qui, eccolo qui, vado a cliccare sopra lo strumento rettangolo, attivando però non lo strumento forma, ma lo strumento maschera di livello. Perché se io seleziono un livello forma nella timeline, clicco sullo strumento rettangolo e disegno, vado a creare un'altra forma geometrica. Non è quello che voglio, voglio creare una maschera di livello, quindi seleziono il livello che mi interessa, che voglio mascherare, seleziono sì lo strumento rettangolo, ma accendo lo strumento per creare una maschera di livello. A questo punto disegno una maschera. Vedete che la maschera fa in modo che tutto quello che ha al suo interno sia reso visibile, ciò che è all'esterno viene nascosto. Io voglio fare la cosa inversa in questo caso. Voglio fare che tutto ciò che ha al suo interno, all'interno di questa maschera, venga nascosto. Bene, come fare? Semplicemente inverto. Inverto la maschera. Quindi qui, nel pannello dei livelli, espando le proprietà del livello in questione, individuo la maschera e clicco sul proprietà invertito e olè! Tutto quello che è dentro, questa maschera, questo quadrato, viene nascosto e tutto quello che è esterno viene mostrato. C'è un piccolo problema però. Il problema è molto chiaro, forse non è evidente. Lo rendiamo evidente cambiando il colore al testo. Cambio il colore al testo e così da mostrarvi un piccolo effetto collaterale di quello che abbiamo appena fatto. La maschera di livello che abbiamo appena applicato al box ha nascosto il box quadrato. È vero! Ma non ha nascosto il testo perché chiaramente il testo è un altro livello. La maschera di livello, come abbiamo visto, va a nascondere quello che in qualche modo è all'interno del livello stesso su cui stiamo lavorando. Quindi io potrei far sparire, non so, soltanto il box, ma io nel caso specifico di questo video tutorial voglio far scomparire sia il box con la scritta editor che la scritta editor contemporaneamente. Come fare per ovviare a questo problema? Bene, introduco un concetto nuovo di cui poi parleremo meglio nelle lezioni un pochettino più avanzate che è il concetto della precomposizione. Cosa vuol dire precomporre in After Effects? Vuol dire, detta proprio in parole povere povere, poi il concetto è molto più complicato di come lo sto esponendo, ma per capirci e per farmi capire a tutti. Voglio fare in modo che sia la scritta editor, sia il box della scritta editor vengano racchiusi dentro un unico livello. È come se creassimo una cartella in cui andiamo ad inserire dentro sia la scritta che il box. Come fare? Tra breve sarà tutto molto più chiaro. Seleziono la scritta editor. Seleziono anche il box della qualifica contemporaneamente, quindi ho due livelli selezionati, vado nel menu livello e in fondo al menu livello c'è una voce chiamata precomposizione. Tasto di scelta rapida, CTRL, maiuscolo, C. Ci clicco sopra, vedete che appare una finestra in cui posso dare un nome alla cartella che sto creando, per esempio qualifica. Clicco su OK e vedete che due livelli vengono buttati dentro questo nuovo livello che in realtà è un livello raccoglitore. Possiamo vederla in questo modo, non è proprio così in realtà, però per semplicità immaginate questa precomposizione come una cartella che contiene al suo interno i due livelli che abbiamo precomposto. Facciamo la stessa cosa con il nome e cognome e il box del nome e cognome. Quindi seleziono nome e cognome, seleziono il box, livello, precomposizione, questo sarà un contenitore nome, e abbiamo a questo punto due livelli, uno che contiene sia la scritta del nome e del cognome, oltre al box che ospita la scritta nome e cognome. L'altro livello invece che contiene sia la scritta editor che il box della scritta editor. In questo modo posso applicare animazioni e quello che voglio a un livello singolo e entrambi i livelli vengono, diciamo, infettati da... Passatemi il termine, in questo periodo forse non è il termine più corretto, ma vengono coinvolti nell'effetto, nell'animazione o nelle operazioni che stiamo facendo in timeline. A questo punto se io vado a creare una nuova maschera di livello, come potete vedere, vado a nascondere sia il box, sia la scritta Fabio Ambrosi, in un colpo solo. Quindi a questo punto posso animare questa maschera di livello per fare in modo che, invertendola, come abbiamo visto, tasto di scelta rapida M di Milano per mostrare le maschere, eh? Non so se l'avevo già detto nelle lezioni precedenti, comunque tasto di scelta rapida M per mostrare le maschere. Naturalmente voglio animare quello che viene chiamato tracciato maschera, animando il tracciato maschera vado ad animare la maschera in sé, e quindi vado ad invertire, come abbiamo visto nella scorsa lezione, la visualizzazione della maschera, perché qual è lo scopo che io voglio ottenere? Voglio fare in modo che la maschera che vedete qui in viola, quando va a coprire o va sopra alla scritta nome e cognome, nasconde la scritta nome e cognome. Ok. State attenti a selezionare bene. Voglio creare questo effetto in altre parole. Come si anima? Allo stesso modo in cui abbiamo animato gli altri elementi in After Effects. Quindi, accendo lo stopwatch della proprietà tracciato maschera, vado avanti di qualche frame, clicco due volte sulla maschera per modificarla espandendola, vedete che viene creato un secondo keyframe, e a questo punto la maschera va a nascondere la scritta Fabio Ambrosi e anche il contenitore. Facciamo la stessa cosa con la scritta editor, quindi seleziono la scritta editor, vado a creare una nuova maschera di livello, eccola qui, vado ad invertirla, ovviamente, perché voglio che venga nascosto quello che è al suo interno, strumento selezione, vedete che quando la maschera viene sopra, nasconde quello che è dentro la maschera, magari posso fare un giochino, stupido se preferite, posso... ecco qui, doppio clic, posso fare un giochino, magari posso fare questa maschera un pochettino storta, vediamo che cosa succede, se animo un quadrato un pochettino ruotato, bene, mi posiziono dove voglio che inizi la mia animazione, per esempio qui, accendo anche qui la proprietà tracciato maschera, eccolo qui, stopwatch, keyframe inserito, vado un pochettino avanti, doppio clic sulla maschera, la ingrandisco, olè, vediamo che cosa succede, torno indietro, e questa è l'animazione che ho creato, vedete che la scritta editor viene nascosta, ma non in maniera lineare, quasi da un rombo, che la va a tagliare in due, posso nascondere queste maschere dalla visualizzazione, quando sono in pausa, cliccando su questo strumentino qui, su questo bottoncino qui, che mi permette, vedete, di mostrare o nascondere, i bordi, i contorni delle maschere, ecco, per vedere quello che accade, nascondo, vedete che è questo l'effetto che sto, che sto creando, ovviamente posso giocare con i keyframe, per fare in modo che l'animazione avvenga un pochettino prima, e sia un pochettino più veloce, abbiamo visto che i keyframe vicini sono più veloci rispetto a keyframe lontani, e questo è quello che avviene. Abbiamo imparato in questo video tutorial, come animare la posizione, come creare scritte, come inserire forme geometriche, come animare le maschere di livello, per creare animazioni leggermente più complesse, rispetto a quelle che abbiamo visto fino ad ora. Andiamo avanti con il corso, ancora tantissime cose da imparare, After Effects è un software complicato, perché le cose che si possono fare sono praticamente infinite, e spesso e volentieri non ci sono regole, la regola è la vostra fantasia, poi sul come creare effetti, spesso, 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 dipende dalla vostra fantasia. Vi ricordo, www.fabioambrosi.it Ci sono tutti i tutorial, con tutti gli articoli, e ovviamente l'indice degli argomenti, c'è il corso dedicato a Premiere Pro, se ne avete voglia. Iscrivetevi a questo canale YouTube, anche per seguire i live, stiamo facendo dei video tutorial dal vivo, se vi iscrivete e accendete le notifiche, ovviamente verrete avvisati ogni volta che andiamo in diretta, se volete avere altre informazioni, e se volete restare in contatto, cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare, e ormai lo sapete, è sempre quella, Fabio Ambrosi. Mettete un like, e teniamoci in contatto. Grazie ancora, commenti a queste lezioni, a questi video tutorial, se non vi è chiaro qualcosa, scrivete, se riuscirò, risponderò direttamente sotto questi video, altrimenti, durante i live, dedichiamo sempre un po' di tempo, a rispondere a chi fa le domande, a questi video tutorial. Quindi vi ringrazio, buon proseguimento, al prossimo video tutorial. Ciao!